Ciao amici bentornati sul mio canale o se siete nuovi benvenuti. Oggi mi presento per anticiparvi il tutorial che uscirà domani dove andiamo a realizzare questo bellissimo cappello da donna. È un punto molto facile da realizzare, ideale anche per chi è principiante. Alla fine andremo ad abbellire il tutto con un pompon. Lo possiamo realizzare per noi o per una nostra amica. Vi aspetto a domani, ciao a tutti!